musica 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 nicole eh? oh nico che c'è? nicole sono un genio sono un genio ma che è successo? ci sono riuscita ci sono un genio sono un genio ma che sei riuscita a fare? il puzzle ah il puzzle grazie erano tre mesi che ci stai lavorando ma era difficile quattro pezzi vabbè quattro pezzi in tre mesi quasi un mese a pezzo insomma sei stata brava però dai non esageriamo nicole era difficilissimo uno o due anni capito? io sono messo solo tre mesi che genio nico che genio si ma non uno o due anni non è il tempo nicole hai visto che ho capito che sono un genio del puzzle eh? si ho capito tu ridi che sei solo una cara non lì c'è caro nicole sei una cara non c'è caro niente nicole ma che sei di? non c'è caro niente inghidioso ma mi so sta zitto inghidioso ci so non c'ho io yoo sono io ma io chi? la tengeno ah Ah, la bottiglia? No, l'acqua. Ah, la goccia d'acqua? Sì. Oh, ciao. Ciao, sono qui, non mi interagio il cavolo. No, non ti bevo, dai. Carina sta cosa, vedi? Su sta casa succedono queste cose strane. Vabbè. Stai qui? Ok. Mi fai compagnia? Sì. Penso che un giorno così non ritorni. Che c'è? Sto lavorando però, lasciami insomma, no? Zitta un attimino. Oh, scusa. Ehi. Eh? Per favore. Che cosa? Sto lavorando, almeno ti attacco. Sì. Eh, te la fai finita. Ti la metto. Eh, almeno sei zitta però. Oh, sì. Eh. che c'è che dice una cosa che c'è mannaggia e sto lasciando dentro quella bottiglia che ha la goccia quella che parla si strana vero è stranissimo una goccia d'acqua no dicola non è acqua come no ce l'ho messo io e chi era la goccia ma che schifo bene se questo video ti è piaciuto sta zitto nico che oggi ci sono grandi ah vabbè vai vai dillo tu se ti è piaciuto iscriviti al canale metti like condividi e dillo a tutto il mondo se ti è piaciuto se non ti è piaciuto ecco ciao da nicola ciao iscriviti al canale mi raccomando ciao ciao